Buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV, siamo in diretta alle 7 e mezzo del mattino, buongiorno a chi ci segue in replica, naturalmente alle 9.10 e alle 13.30, siamo qui su Fano TV per Occhio e Giornali, la rassegna stampa che questa mattina prenderà in esame soltanto due quotidiani perché il messaggero, l'edizione online perlomeno è in sciopero, così come c'è scritto sulla pagina appunto del quotidiano romano. Allora cominciamo dal santo del giorno, andiamo subito a vedere il santo di oggi, oggi è San Giovanni Climaco, è un santo che è vissuto tra il XVI e il XVII secolo, Climaco è una parola greca che significa quello della scala, Giovanni infatti è autore di una famosa opera dal titolo La Scala del Paradiso. Il sole è sorto alle 6.52, tramonterà alle 19.33 minuti, veniamo subito invece alle previsioni del tempo, intanto se è possibile andare sulla telecamera esterna per dare un'occhiata, guardate questo cielo dipinto con questa riga, sono le nuvole praticamente, un colore che comincia ad essere sempre più intenso, comincia a esserci anche una luce diversa rispetto all'inverno con quest'alba che ormai è già in uno stato avanzato, sono le 7.31, vedete c'è anche il cambio d'orario di qualche giorno fa. Allora, torniamo dicevo al sito della protezione civile delle Marche, vediamo le previsioni per oggi, oggi avremo un cielo sereno al più poco nuvoloso, con addensamenti sui settori centro-settentrionali, le temperature sono in lieve aumento, per domani giovedì 31, ultimo giorno di marzo, avremo ancora cielo parzialmente nuvoloso con temperature in ulteriore lieve aumento, venerdì 1 aprile cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con stratificazioni medio-alte, le temperature sono stazionarie, poi il tempo cambierà per la giornata di sabato, sono previsti dei temporali. Allora, cominciamo dalla pagina di Fano del resto del Carlino, perché questa mattina il giornale intervista la ragazza, la ragazza di 24 anni, che si è buttata con il paracadute e che a un certo punto non ha più trovato l'aeroporto di Fano e quindi è atterrata sul tetto di una casa. Ecco il titolo, col paracadute finisce sul tetto, lei rassicura, sorridente, lo rifarò, quindi sì, certamente ha avuto paura, panico, però per fortuna, dice lei, al corso ci hanno insegnato anche come si atterra sul tetto di una casa, ma credo di dover perfezionare ancora un po' la frenata. Non riuscivo a trovare, dice lei, racconta più a trovare l'aeroporto, ero tra i cavi dell'alta tensione e le case. Ecco in questa bella foto Claudia Spinella, 24 anni, ticinese, pochi istanti prima del volo, con il suo paracaduto, è finito appunto per errore nella manovra di atterraggio sul tetto di una abitazione. Ricordiamo anche, lo ricorda giustamente il giornale, che questa disavventura lei è costata una distorsione alla caviglia. Parla questa mattina il titolare, parla davvero a cuore aperto, il titolare del pub che ha servito l'altra sera a due giovani, ventenni, un bicchiere al posto dell'acqua, un bicchiere con dentro un detersivo. Mi assumo la responsabilità, chiedo umilmente scusa. Stoviglia, questo è il nome del pub, in attività da un mese, quindi è aperto recentemente in centro storico a Pesaro, e il luogo, il pub dove appunto si è consumata quella che poteva essere una tragedia. Il locale ha aperto regolarmente dopo l'assunzione della responsabilità, la ditta dell'acqua non c'entra nulla con lo scambio delle bottiglie. Chiaramente poi su Facebook, che è un luogo dove spesso c'è disinformazione allo Stato puro, tant'è che su Facebook qualcuno ha accostato la marca di questa acqua minerale al malore dei ragazzi, che chiaramente non c'entra assolutamente nulla, tant'è che l'azienda di acqua minerali Tulia minaccia adesso querele a chi sui social network associa appunto il caso ad una ipotetica intossicazione in origine del suo prodotto, tesi del tutto chiaramente inesistente, quindi l'acqua, la bottiglia non c'entra nulla, è il contenuto, dentro c'era uno sgrassante per detersivi che non doveva stare dentro quella bottiglia, chiaramente, quindi la negligenza del titolare, non certo dell'azienda che produce l'acqua, che distribuisce l'acqua. Allora chiude Cinefoto Pandolfi, invece la città di Pesaro, più che finisce che cambia direi, no? La città che cambia, chiude, finisce certamente un'epoca, 70 anni di clic e immagini, Sandro è nato nell'anno di apertura del negozio, Sandro Pandolfi con il manifesto, vedete qui nella fotografia del Cine Giornale, sotto, dice, parlando di questo suo archivio, chiaramente 70 anni di fotografie significa avere un archivio straordinario, fantastico, mio padre Cesare fece diversi filmati sulla città di Pesaro del dopoguerra, con Brigidi, il primo Cine Giornale e la diretta Basket in teatro. In Via Rossini si era trasferito a fianco del Duomo dal Corso, i miei figli fanno altro. Questo è il racconto e un altro negozio che appunto a Pesaro chiude. Mentre è andata bene per l'armatore dell'imbarcazione fanese che ha subito un furto, non tanto di materiali e non soltanto di materiali tecnologici, ma anche e soprattutto dei documenti. Questa era la preoccupazione di Mauro Vergoni, lo vedete nella fotografia pubblicata sul giornale questa mattina, eccolo qua cerchiato, Mauro Vergoni a bordo del Tartan, nel motopesca ormeggiato sulla darsena del porto di Fano, che fu oggetto del furto la notte del 25 mazzo scorso, dove oltre alla strumentazione che è stata recuperata, c'erano anche documenti che consentivano e che consentono alle imbarcazioni di andare in mare, quindi di lavorare. Vergoni aveva detto attraverso i media appunto di essere preoccupato, perché senza quei documenti non sarebbe potuto tornare in mare. Poi che cosa è successo? È successo che la sorella di uno di questi ragazzi, che poi hanno confessato di aver rubato in questa imbarcazione e anche in un'altra, di aver rubato questa attrezzatura e questi documenti, quando si accorta che il fratello aveva rubato questo materiale, ha chiamato subito, si è messo d'accordo con Vergoni, e ha detto guarda ce l'ho io, ho ritrovato il tutto e poi si sono messi d'accordo. Naturalmente già erano stati avvisati i carabinieri. Furto al motopesca, quattro nei guai, lavoreremo gratis sulla barca, tre ventenni e un minore restituiscono dunque il bottino. Mea culpa dei ragazzi che hanno confessato di aver agito sotto effetto dell'alcol, non ci rendevamo conto praticamente, dicono loro, di nulla. Il giallo invece in ospedale, va in ospedale con la mandibola rotta, poi scompare, si fa curare al pronto soccorso per questa mandibola che appunto si è rotta, dichiarando di essere stato colpito al volto da un amico, poi quando i medici hanno chiamato la polizia, questo è sparito senza farsi interrogare. L'altra notizia invece di Colonna che arriva da Marotta, vaga sui binari con il treno in arrivo, un'anziana è stata salvata dai carabinieri. Questo è successo l'altro giorno, intorno alle 11.40, una signora facciandosi dalla finestra, scorge la sagoma di una donna che sta camminando all'interno delle barriere che circoscrivono la strada ferrata. Ha chiamato subito naturalmente il 112 che dopo tre minuti è arrivata sul posto per appunto salvare questa donna. Finisce invece fuoristrada colpa del cane, dice il conducente, però è positivo all'alcol, così ha raccontato ai soccorritori che un cane gli ha improvvisamente tagliato la strada e che lui per evitare l'animale ha sbandato, perdendo il controllo del mezzo, andando a sbattere. Peccato però che appunto era praticamente ubriaco, possiamo dire. Andiamo adesso sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico perché c'è la cronaca di due furti che sono collegati tra loro, due furti che sono avvenuti nella notte, uno nella notte fra lunedì e martedì, i ladri sono entrati in un'abitazione al piano terra in via Rossi a Pantano, mentre la notte prima è stata svaliggiata una villetta di campagna nella zona di Carignano. Dicevo, i due furti, come scrive il Corriere Adriatico questa mattina, sono anunnesso perché il proprietario della via di campagna è un noto avvocato pesarese, genero del derubato di via Rossi. E qui c'è il racconto di quello che è successo. Sono stati caricati su un furgone elettrodomestici, attrezzi, la notte dopo i ladri hanno visitato invece la casa del suocero. Fiorenzuola, spiaggia bella e impossibile, il Comune non può attrezzarla con i servizi e con il chiosco, persa la causa per l'usucapione della via d'accesso, c'è solo una servitura di passaggio, confermato l'avvio dell'opera di consolidamento della falesia. Andiamo sulla pagina di Fano, adesso invece del Corriere Adriatico, La sorella del ladro restituisce il maltolto. Questo è il titolo che si riferisce appunto ai furti avvenuti in una imbarcazione. Il gruppo, composto anche da un minorenne, si giustifica parlando di una notte brava causata dall'eccesso di alcol. Poi c'è la cronaca qui di spalla, trovata morta in casa un'anziana, uscisa da una crisi cardiaca, è successo intorno alle 23 e 18 di lunedì. il 118 è intervenuto per una richiesta di soccorso, una donna anziana residente da sola in via Fossa a Sant'Orso. Purtroppo è stata trovata senza dita all'interno dell'appartamento. Gli operatori sono soddisfatti invece per come è andata la Pasqua, parlo degli operatori fanesi, un buon collaudo della stagione, cambia la formula delle vacanze, delle vacanze brevi per pochi giorni e all'ultimo minuto, gli esercizi comunque commerciali affollati e apparsa carente invece la manutenzione del lungomare e del centro storico. Però dal comune si giustificano e dicono che non riusciamo ad arrivare dappertutto. Il bullismo digitale invece rischio per adolescenti, conferenza alla Memo con vari esperti. Sopra invece, sempre sulla pagina di Fano, del Corriere Adriatico, violata ancora la legge sul divieto di comunicazione, il Movimento 5 Stelle segnala le infrazioni per la campagna referendaria, parole scollate dai fatti. Questa è la notizia sulla pagina di Fano. Mentre da Fossombrone continuano le azioni per scoraggiare in particolar modo i rave party, cioè quei raduni di giovani che si svolgono spesso in luoghi aperti dove si balla, tra virgolette, è un nefemismo dire si balla nei rave party, non si balla, ci si stordisce stando con la testa attaccata alle casse acustiche sballandosi con di tutto di più. No, comunque, è rave party, la zona è stata arata con il trattore, quindi la terra, il terreno è stato mosso per evitare e impedire ai giovani di radunarsi e di ballarci sopra. Chiaramente ballare o comunque stare su un terreno arato non è agevole, quindi non è un granché. E quindi il giorno di Pasquetta c'è stato questo rave party abusivo che ha messo a soccuadro le cesane nell'area che due anni prima era stata resa inagibile grazie appunto all'intervento del comune di Fossombrone che aveva deciso di darare i campi con solchi profondi. A Pasquetta però è stato scoperto questo assordante ritrovo di giovani. Mentre nel bosco, e poi qui c'è un altro problema, che non è solo quello dei giovani che vanno a stordirsi ma nel bosco purtroppo la processionaria sta facendo da matto nel senso che il bosco è pieno, i pini sono infestati dalle processionarie e quindi è un problema. Il ministro Giannini invece. Il ministro Giannini sarà all'Università di Urbino poi andrà anche al Museo del Bali a Saltara, sarà l'occasione per parlare di fuga di cervelli all'Università, scarse risorse per la ricerca e blocco degli stipendi. Poi sotto troverete altre notizie. Io mi soffermo un attimo sul titolo che riguarda Monbaroccio dove sono arrivati alcuni cicloturisti accolti al Beato Sante. Sono dei vacanzieri europei che sono alloggiati a Gabice Mare e che poi oggi arrivano a Urbino. Insomma, dopo il santuario del Beato Sante la trentasesima settimana cicloturistica internazionale di Pasqua arriva oggi nella città Ducale. Adesso invece l'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico Madonna Ponte Fano ha la fortuna tra virgolette di avere la seconda festa quella che è in calendario subito dopo il lunedì dell'Angelo per i fanesi c'è questa giornata in più rispetto al resto del territorio. Ieri infatti si è celebrata la festa della Madonna del Ponte Metauro un'occasione per compiere una visita al santuario che risale al XIII secolo e grazie al bel tempo per un picnic nella vicina Pineta. Poi sotto invece a centropagina sulla sanità gioco delle parti c'è un'intervista al giovane consigliere di Forza Italia che invita il sindaco di Fano Massimo Serri ad un colpo di reni per difendere la città di Fano. Stiamo parlando di Stefano Mirisola Stefano Mirisola lo cerchiamo ecco così sapete a chi è stata fatta questa intervista Mirisola bellissima esperienza della quale però molti hanno fatto un lavoro pensando solo alle elezioni e dicevo Mirisola è un giovane imprenditore fanese che ha ereditato il non facile compito di sostituire Maria Antonia Cucuzza dopo le dimissioni di lei nella Civica Sise quindi in Consiglio Comunale ricoprendo il ruolo di capogruppo di Forza Italia nelle attrattive dice poi per i ragazzi cioè per le iniziative che si fanno in città a Fano per i ragazzi da due anni però si è tornato si è tornati un po' indietro poche attrattive Nannini invece Italo Nannini eccolo in questa fotografia con la moglie partiranno adesso per di nuovo per l'Africa è un viaggio è un ennesimo viaggio il viaggio numero 25 un tour nei paesi dove l'Africa Chiama l'organizzazione fanese gestisce fondamentali opere sociali in Zambia Tanzania Kenya aiuti ai bambini disabili anziani mamme con lights e persone senza diritti ancora la pista porterà valore siamo sempre sul Corriere Adriatico la pagina di Fano la pista porterà valore Forbici Plauda il progetto di un'opera ciclabile che collegherà la città di Fano a quella di Senigallia l'infrastruttura avrà ricadute positive sul piano urbanistico e anche su quello turistico ottima la sinergia poi altre notizie che chiaramente troverete sulla pagina di Fano e Valle del Cesare del Corriere Adriatico andiamo su quella di Senigallia rifiuta di dare l'elemosina è stata aggredita dal mendicante una ragazza e i suoi genitori sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso il clochard è stato denunciato per lesioni e caricato su un treno l'episodio è avvenuto all'ora di pranzo lungo il corso 2 giugno protagonista una 46 anni di Genova cantieri a Rilentor albergatori preoccupati a Senigallia il presidente di Assotel confesercente Tassi parla di precedenza a lungomare e al centro storico villette fantasma in via Sella truffate due famiglie poi l'ultima pagina torniamo un attimo sul resto del Carlino perché sulla pagina di Pesaro sempre si parla dei lavori alla palla di Pomodoro una primavera questa con il cantiere alla palla a metà maggio sarà tutto fatto sopra il luogo dell'assessore Belloni miglioreremo tutta la zona del mare e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa o che i giornali torna domani mattina alle 7.30 grazie per averci seguito e voi tutti auguro di una buona giornata grazie per averci seguito